Fratelli, sorelle, pace del Signore, buon martirio a tutti quanti, grazie a Dio per come siamo insieme anche questa mattina. Siamo nella prima epistola dei Tessalonicesi al capitolo 4 e stiamo leggendo i versi da 9 fino a 12. Questi versi nei quali l'Apostolo Paolo dà alcune esaltazioni molto importanti sulle quali brevemente rifletteremo questa mattina. Innanzitutto l'invito dell'Apostolo è quello di ricercare di praticare l'amore fraterno che è qualcosa che ancora oggi è necessario, è qualcosa che impariamo da Dio perché è Dio che è amore, perché Dio ci ha talmente amato da dare il suo nigenito figlio per la nostra salvezza perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Ed è qualcosa che noi poi dobbiamo praticare, praticare nella fratellanza sia a livello locale ma non solo. Infatti i Tessalonicesi erano degni della lode dell'Apostolo Paolo perché essi manifestavano questo amore verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia, la regione cui la città di Tessalonica apparteneva. E Dio ci aiuti ad amare i fratelli della nostra chiesa locale dove viviamo, dove condividiamo le esperienze spirituali ma ci aiuti anche ad avere amore verso tutta l'opera del Signore perché tutti coloro che sono stati lavati nel sangue prezioso di Gesù Cristo e vivono sotto la guida dello Spirito Santo sono fratelli, sorelle in Cristo e tutti ci dobbiamo amare l'uno con l'altro. Un'altra esortazione che l'Apostolo Paolo fa è quella riportata al verso 11 dove innanzitutto invite i credenti di Tessalonica a cercare di vivere in pace e ancora oggi noi siamo invitati dalla parola di Dio a cercare di vivere in pace, in pace nell'ambito della Chiesa sicuramente, della fratellanza, amandoci, rispettandoci, onorandoci e sapendo essere di aiuto e di sostegno a coloro che sono nel bisogno, in pace nelle nostre famiglie, amando e rispettando il marito, la moglie, i genitori, i figli, non so, quella che è la posizione che noi occupiamo, in pace sul posto di lavoro con i nostri colleghi, con le persone con cui svolgiamo attività lavorative insieme, in pace con le persone che ci sono intorno magari vicini di casa o parenti allargati, sì i cristiani devono cercare di vivere in pace, come dice un altro passo, per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini, come disse Gesù, beati quelli che si adoperano per la pace, ecco noi dobbiamo vivere in pace, dobbiamo cercare di vivere in pace e dobbiamo fare di tutto affinché questo avvenga e credo che non sia casuale il fatto che l'Apostolo Paolo subito dopo dice non soltanto di vivere in pace ma di farsi fatti propri, perché spesso le amicizie e i legami di amore fraterno si spezzano proprio perché ci sono persone in piccione, ora una cosa è quando qualcuno viene, si sfoga, ti chiede un consiglio, si apre, si confida, ti coinvolge nei propri problemi perché ha bisogno di condividere una situazione che lo sta soffocando o che la sta depromendo, una cosa è quando noi andiamo a ficcare il naso negli affari degli altri, ecco Paolo dice questo non lo dovete fare, non dovete invadere come si direbbe oggi la privacy degli altri, dovete essere saggi, dovete saper rispettare il prossimo e avere rispetto per quelli che sono, per la loro vita. Il gossip che oggi va molto di moda è qualcosa che il cristiano non deve praticare, siamo persone mature anche perché sappiamo farci i fatti nostri e sappiamo anche lavorare con le nostre mani. Ora so benissimo che viviamo in un periodo di crisi economica in cui il lavoro manca e dobbiamo pregare che il Signore possa provvedere al lavoro, lavoro per i giovani affinché non siano costretti ad emigrare, a lasciare le proprie famiglie, lavoro anche per gli imprenditori che sono quelli che creano posti di lavoro, dobbiamo pregare che Dio possa risollevare la nostra nazione, poi il mondo intero da questa situazione che si è venuta a creare. Ma in generale ci dobbiamo ricordare che il cristiano non è uno scansa fatiche, è uno che lavora con le proprie mani e questo significa che sul posto di lavoro si impegna, sul posto di lavoro è un esempio, ma non solo chi lavora in ufficio, chi lavora su un cantiere o altrove, ma anche la donna che lavora in casa deve lavorare con le proprie mani. Chi è una casalinga sicuramente ha un grande lavoro da fare e non deve essere distratta dalle soppopera, dalle chat su whatsapp o sugli altri social, se c'è tempo dopo aver cercato il Signore, pregato il Signore, dopo aver adempiuto i propri doveri di casalinga, perché no? È un modo anche per relazionarsi con gli altri, ma non va bene che una donna, una mamma di famiglia che ha come compito quello di curare la casa sia negligente nelle attività familiari perché distratta da queste altre cose. Lo stesso vale per l'uomo, l'uomo sicuramente ha bisogno dello svago, soprattutto se lavora, ma si deve ricordare che ha una propria famiglia, che deve provvedere ai bisogni della propria famiglia. Infine c'è un'altra richiesta che l'Apostolo Paolo fa e cioè quella di camminare dignitosamente verso quelli di fuori, cioè verso coloro che non sono credenti. E questo è strettamente correlato al vivere in pace, a farsi i fatti propri, a lavorare con le proprie mani. Sì, quando noi adempiamo gli insegnamenti della parola di Dio, noi acquistiamo una dignità e possiamo, passatemi il termine, camminare a testa alta perché siamo persone rispettabili ed onorabili. Delle volte si pensa che ubbidire alla volontà del Signore sia un peso grave sotto il quale veniamo messi, un gioco troppo pesante. No, no, ubbidire alla parola di Dio ci eleva, ripeto, ci dà una dignità e noi dobbiamo essere grati a Dio perché ci considera meritevoli di ricevere i suoi insegnamenti, i suoi amministramenti e ci riprende anche delle volte perché ci ama e ci vuole vedere dei figli che onorano il suo nome. Perciò oggi riflettiamo su questi insegnamenti, mettiamoli in pratica nella nostra vita. Signore ci aiuti ad amarci gli uno con l'altro, ad amare i fratelli e le sorelle, ci aiuti a cercare la pace, ci aiuti a farci i fatti nostri, ci aiuti a lavorare, ad assolvere i nostri compiti in modo da camminare dignitosamente nel mondo in cui viviamo. La pace di Dio, la sua grazia, il suo amore sia con tutti quanti noi ancora oggi. Pace del Signore a tutti quanti. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Grazie.